Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi in questo video vi volevo parlare della nuova Nintendo Switch modello OLED che ieri Nintendo ha presentato al pubblico Come un fulmine a ciel sereno Nintendo ha presentato al pubblico questo nuovo modello di Nintendo Switch che andremo a vedere più nel dettaglio nel corso del video Vi anticipo già ragazzi che non si tratta della nuova Nintendo Switch Pro di cui si parlava un po' di tempo fa e si pensava che Nintendo avrebbe presentato al pubblico durante le 3 e che sarebbe uscita poi prima della fine del 2021 Sinceramente sono rimasto stupito di questo annuncio, dopo vi dirò cosa ne penso, adesso però direi di concentrarci sulle caratteristiche di questa console Le caratteristiche tecniche di Nintendo Switch modello OLED sono simili a quelle del modello presente già attualmente sul mercato Le dimensioni delle due piattaforme sono molto simili, si parla infatti di 102 mm x 239 mm x 13,9 mm Mentre il modello OLED sarà 102 mm x 242 mm x 13,9 mm A cambiare sarà soprattutto la grandezza e la tipologia dello schermo touchscreen Il nuovo modello OLED infatti avrà uno schermo touchscreen di 7 pollici contro i 6,2 del modello base Contro i 5,5 pollici del modello Lite Anche la console sarà leggermente più pesante, il modello OLED peserà 320 grammi 4,20 con i Joy-Con Mentre il modello base attualmente pesa 297 grammi con i Joy-Con 398 circa Considerate che la Nintendo Switch Lite ha un peso di 275 grammi I Joy-Con apparentemente sembrano gli stessi di Nintendo Switch modello base Quindi in fatto di retrocompatibilità non ci saranno problemi Però da un altro punto di vista è molto probabile che Nintendo non sia riuscita a risolvere i rinomati problemi di drifting La memoria sempre espandibile tramite schede microSD non sarà più di 32 GB ma di 64 GB Quindi in questo caso è stata raddoppiata E anche gli altoparlanti saranno più potenti per permettere all'utente finale di godere di un suono più nitido Sia in modalità portatile sia in modalità tavolo La durata della batteria è paragonabile alla versione più recente di Nintendo Switch Che potete già trovare sul mercato e varia dalle 4 ore e mezza alle 9 ore In base a come utilizzate la console e ai giochi a cui giocate La maggiore differenza quindi tra Nintendo Switch base e Nintendo Switch OLED risiede nella tipologia e nella grandezza dello schermo Oltre alla grandezza, 7 pollici contro i 6,2 del modello base e i 5,5 del modello Lite Il display OLED permetterà anche una migliore rappresentazione dei colori Infatti non necessita di retroilluminazione Il monitor infatti utilizzerà l'illuminazione di ogni singolo pixel per generare le immagini Spegnendo i pixel è possibile creare dei neri più profondi migliorando notevolmente il contrasto Rimane invece avvolta nel mistero la luminosità di questo schermo Per quanto riguarda la risoluzione quella non cambia rispetto al passato E rimane 1920x1080x60fps quando la console si trova nella dock 1280x720 in modalità portatile da tavolo A proposito del dock la stazione di ricarica del modello OLED ha un logo più piccolo su un fianco Che si illumina e ha delle forme più tondeggianti rispetto a quella del modello base Le due dock quindi quella del modello OLED e quella del modello base sono comunque perfettamente compatibili E dopo previo aggiornamento sarà possibile utilizzare Nintendo Switch base con la dock del modello OLED e viceversa La differenza maggiore tra le due stazioni di ricarica risiede nella porta LAN che nel modello OLED è già integrata Non è da acquistare a parte Quindi riassumendo la dock del modello OLED avrà due prese USB su un fianco Una presa HDMI sul retro come nel modello base Una presa USB di tipo C sul retro per collegare naturalmente il cavo di alimentazione E una porta LAN per collegare direttamente tramite cavo la console alla vostra rete internet Naturalmente la presa LAN migliorerà la qualità e la stabilità della connessione internet E sarà possibile sfruttarla soltanto quando la console si trova all'interno della dock Per ricaricare la console in questo modo saranno necessarie 3 ore Per quanto riguarda i giochi l'azienda ha già confermato che tutti quelli disponibili sul mercato saranno compatibili con il modello OLED Tutti quelli che usciranno saranno compatibili con tutti i modelli di Nintendo Switch Probabilmente per quanto riguarda il modello OLED ci saranno delle lievi incompatibilità con i toy con di Nintendo Switch Labo E per quanto riguarda l'esperienza di gioco naturalmente sarà migliore date le dimensioni dello schermo su Nintendo Switch modello OLED Ma queste variazioni saranno quasi irrilevanti Una novità che mi è piaciuta particolarmente è il nuovo stand che adesso è largo quanto la console Mentre prima era molto molto piccolo e si rompeva anche facilmente Sarà possibile modificare l'angolo di visualizzazione come si vuole Quindi adesso sarà molto più facile giocare in modalità portatile o da tavolo Prezzo perché comunque ragazzi non si parla di noccioline 350-51 dollari quindi molto probabilmente il prezzo in Europa sarà lo stesso in euro però Quindi 350 euro Data d'uscita 8 ottobre 2021 quindi consiglio a chi è interessato ad acquistarla Soprattutto perché magari non possiede ancora Nintendo Switch di prenotarla per non rischiare magari di non trovarla al lancio Colorazioni disponibili bianca e nera come quella che avete visto nel trailer Trovo che tra le due sia la colorazione più bella mentre l'altra è quella classica nera con i Joy-Con rossi e blu Ultimo dettaglio poi passo alle conclusioni finali La confezione che troverete in commercio di Nintendo Switch modello OLED Non sarà più orizzontale come quella del modello base Ma come potete vedere dalle immagini verticale Penso che Nintendo abbia fatto questa scelta proprio per differenziarla dal modello base Quindi permettere alla clientela di distinguere i due modelli molto più facilmente Conclusioni finali Chi potrebbe acquistare questa console? Escludendo naturalmente i collezionisti Coloro che non hanno avuto la possibilità di magari comprare la Nintendo Switch prima Potrebbero far che puntare direttamente a questo modello più aggiornato Naturalmente valutate anche in base al vostro budget Oppure coloro che hanno acquistato magari Nintendo Switch nel 2017 L'hanno sfruttata un bel po' Adesso magari non funziona più tanto bene È fuori garanzia Quindi magari non vogliono rischiare che capiti qualcosa E poi magari devono pagare per farla riparare Tramite permuta Magari sfruttando le varie promozioni dei negozi Potrebbero dar dentro il modello vecchio per prendere un modello più aggiornato a prezzo scontato Io sinceramente non so se l'acquisterò Perché comunque possiedo già il modello base che funziona ancora a meraviglia Mi piacerebbe però averla a disposizione per farvela vedere da vicino Anche se praticamente vi ho elencato tutte le caratteristiche di questo nuovo modello di Nintendo Switch Fatemi sapere magari ragazzi nei commenti se l'acquisterete e perché l'acquisterete Se non l'acquisterete e perché non l'acquisterete Spero che questo video vi possa tornare utile per sciogliere ogni dubbio su questa console Come sempre se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace Commentate, condividete, iscrivetevi al canale E ci vediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube Alla prossima ragazzi Alla prossima ragazzi